bella ragazzi come vedete oggi siamo su Happy Wheels gioco più di merda che possa esistere merda vai cazzo dai cazzo cazzo è partito un braccio è morto figlio che cazzo è che merda dai dai aia ho fatto il bacio al bambino è morto cazzo che merda vai ma che cazzo è dai vai vai vadoci 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 che puttana dai nonnino con la sedia a hotelle si 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 bene ragazzi se vi è piaciuto questo episodio di Happy Wheels mi invito a lasciare un like al video al mio canale e alla mia pagina facebook bella a tutti ragazzi e alla prossima ciò a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti.